Grazie Presidente, sarò molto breve solo per ribadire la volontà costruttiva dell'Assemblea Capedolina, se vorrà approvare questo provvedimento, di interloquire e quindi suggerire e mettersi a disposizione del Governo per estendere la portata di quello che il decreto legge ha previsto. Questo per noi è l'unico modo possibile per salvare le attività produttive, tutto ciò che era ipotizzato in precedenza non è sufficiente, ognuno a ogni livello istituzionale nel quale opera deve mettersi una mano sulla coscienza, fare un giro per la città, toccare con mano qual è la realtà delle attività produttive e lavorative della città e a quel punto calarla nel livello legislativo o normativo nel quale opera. Oggi c'è bisogno di estendere in durata e rivedere i criteri di applicazione di queste norme. L'Assemblea Capedolina darà questo segnale e noi interloquiremo con i nostri parlamentari affinché anche il Governo recepisca e capisca e comprenda le necessità di quegli stessi cittadini che vivono questa città sia come lavoratori che come cittadini che come lavoratori e non vanno dimenticati. La cultura è importante, il patrimonio culturale è importante, ma le occupazioni non rovinano il patrimonio a meno che non siano abusi edilizie e in quel caso vanno perseguiti. Stiamo parlando solamente di occupazioni temporanee per un periodo limitato nel tempo e quindi di una, se qualcuno la può chiamare, sopportazione totalmente ininfluente sul patrimonio artistico e culturale di Roma. Quindi a fronte di una influenza stiamo salvando delle vite, dei lavoro, dei decenni di attività e di storia di attività produttive. Per questo noi riteniamo che sia importante votare la Libra. Grazie.